Le scuole che non posseggono i requisiti di idoneità sismica devono chiudere, lo affermano i giudici della Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza che ha riconosciuto ben fatto il sequestro preventivo di una scuola di Grosseto indipendentemente dall'esistenza di un pericolo concreto di terremoto. Una decisione che avrà effetti dirompenti su tutta Italia e in particolare in Abruzzo, dove secondo le stime della SAI, l'Associazione Scuole Sicure, il 90% degli edifici scolastici abruzzesi sono al di sotto dell'indice dell'1% previsto dalla legge. A Teramo poi, sempre secondo la SAI, la maggioranza delle scuole raggiungerebbe un indice di appena lo 0,2% pur restando regolarmente aperte. Questa sentenza però non è ancora legge. È solo una pronuncia, non una legge però questa della Cassazione? Esattamente, questa è un'indicazione che viene data ai sindaci che comunque rimangono responsabili della sicurezza delle nostre scuole assieme agli uffici tecnici, in quanto se gli uffici tecnici dovessero riscontrare l'inidoneità della struttura ad ospitare una funzione scolastica, dovrebbero immediatamente chiudere questi edifici. E questo è quello che emerge da questa sentenza che comunque conferma quello che anche il Movimento 5 Stelle ha spesso ribadito, ossia quando siamo di fronte a degli indici di sicurezza molto molto bassi, la struttura deve essere chiusa e devono essere trovate delle situazioni alternative. In base a questa sentenza, quante scuole terramane dovrebbero essere chiuse? Purtroppo dalle ultime indagini che sono state fatte sul territorio terramano, se effettivamente facciamo calare questa sentenza nel nostro ambito, tantissime scuole dovrebbero essere chiuse perché moltissime non hanno gli indici richiesti dalla sentenza. Come mai? Naturalmente questa situazione è frutto purtroppo di una cattiva gestione dell'amministrazione negli ultimi 13 anni, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi 13 anni, laddove non c'è stata programmazione per quanto riguarda il patrimonio dell'edilizia scolastica, laddove non c'è stata programmazione per cercare di rimettere in sesto le scuole terramane, tanto che ancora aspettiamo in USP. E in attesa di una legge chiara che disciplini l'idoneità delle scuole, soprattutto nelle zone del cratere, a Teramo si resta in attesa dei MUSP per 600 alunni terramani che l'ex sindaco Brucchi sosteneva di aver ottenuto dal governo e che sarebbero dovuti arrivare a fine anno. Per il momento non se ne vede ancora l'ombra.